Musica Un percorso di collaborazione comune per rendere le donne più forti e libere. Lucia Annibali, da poco difensora civica regionale, ha incontrato Francesca Basanieri, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità. Una collaborazione hanno spiegato che dovrà tradursi in progetti concreti. Questa mattina un incontro molto proficuo con l'ufficio di presidenza, con la volontà comune di iniziare dei percorsi a difesa dei diritti delle donne di tutta la regione toscana, perché il nostro obiettivo da sempre è quello di costruire una cultura di parità e allo stesso tempo cercare di abbattere discriminazioni, stereotipi di genere che sono alla base della violenza. Secondo noi questo rapporto stretto di collaborazione con Lucia Annibali, la nuova difensora civica, darà veramente l'opportunità a tutte le donne toscane di essere più forti e di essere maggiormente difese. È stato un incontro questa mattina molto positivo, molto proficuo, ci siamo appunto confrontate sui vari temi, vari aspetti che coinvolgono le donne, pari opportunità ma anche naturalmente violenza. Abbiamo già in programma alcune attività da svolgere insieme, quindi unire le forze della difesa civica regionale con la Commissione pari opportunità e magari anche lanciare dei progetti pilota di cui poi questa regione può essere orgogliosa. Questo è il nostro augurio e naturalmente l'obiettivo è quello di esserci sempre, di esserci con forza. Nello sesto giorno Lucia Annibali, da poco nominata a difensora civica, ha incontrato anche il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, Marco Landi, dando così seguito alla volontà dichiarata alla Presidente dell'Assemblea legislativa e ai capi gruppo di confrontarsi e toccare con mano esigenze ed interessi delle cittadine e dei cittadini della Toscana. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza 22 voti favorevoli e 6 contrari il bilancio di esercizio 2020 dell'autorità portuale regionale. A illustrarlo la Presidente della Commissione territorio e ambiente Lucia De Robertis che ha anche spiegato le ragioni del ritardo con cui l'atto arriva in Consiglio. Sul bilancio e sulle prospettive interviene anche il Presidente della Giunta regionale. Ho cercato di evidenziare come in realtà è la regione toscana che sta facendo l'atto concreto, a mio giudizio importante, il sabbio adotto, 5 milioni di euro, per abbassare quello che è la platea sulla quale le navi poi entrano in porto e garantire un funzionamento di quella che è una realtà importante anche da un punto di vista del funzionamento dei cantieri. Cantieri che sono in questo momento sul piano della nautica in grande luce a livello nazionale e internazionale. Sono proprio i cantieri tirrenici da Livorno a Pisa, col canale di Navicelli, a Via Reggio, a Marina di Carrara, fra quelli che in qualche modo trainano la nautica a livello nazionale, Toscana e Liguria. Ma proprio per questo noi ci impegniamo, dopo l'intervento di 5 milioni con il sabbio adotto, a studiare quello che è l'evoluzione del progetto per gli assi di penetrazione nel porto, ovvero su quel livello di passaggio di una strada che eviti anche nell'uscita e nell'entrata al cantiere di passare dalla viabilità ordinaria della Darsena e quindi la possibilità di entrare nei cantieri in modo più agevole e con meno disagio per quello che è la città. Dall'altra l'impegno che concordiamo con il Comune di Via Reggio per arrivare all'approvazione del piano portuale, atto molto importante proprio per la disciplina, la funzionalità e quello che poi sono tante attività. Noi come Regione Toscana abbiamo messo 6 milioni, dovrebbe essere finalmente arrivato il momento dell'inaugurazione del mercato ittico nella prossima estate. La Lega però ha annunciato il voto contrario, focalizzandosi sulla conflittualità in atto tra la Regione Toscana e il Comune di Via Reggio. Un bilancio che arriva a essere votato nel 2023 ma riguarda il 2020 è difficile poterlo sostenere malgrado ci possano essere delle giustificazioni legate al commissariamento e legate a questa situazione di forte contrapposizione fra l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale che oggettivamente un po' anche per il dibattito sulla poltrona di segretario dell'autorità portuale ha di fatto impedito tutta una serie invece di iniziative che il territorio attende. In questa ottica devo dire che invece io auspico che ci possa essere un dialogo e qui in Regione in qualche modo malgrado le posizioni differenti si dialoga su quelle che sono le esigenze del territorio, in particolar modo del porto di Via Reggio perché è evidente che per dare sviluppo e dare risposte a chi opera nell'ambito del porto di Via Reggio alle grandi aziende ma anche a tutte le realtà che insistono nell'area portuale il rapporto tra Regione Toscana e Comune di Via Reggio deve oggettivamente cambiare credo che siano tutti stufi di questo scontro. Contrastare il fenomeno della cosiddetta desertificazione bancaria nelle aree interne della Toscana il tema portato in aula dal presidente della commissione aree interne Marco Nicolai trova un sostegno unanime e impegna la giunta regionale ad attivarsi anche in sede nazionale. Noi abbiamo il 25% dei comuni della Toscana che sono o senza sportello bancario o con uno solo di sportelli bancari e se pensiamo a quello che significa in termini di servizi e in termini di difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese capiamo quanto questo tema sia rilevante. Abbiamo una bella eccezione in questo panorama il sistema del credito cooperativo il 39% degli sportelli del credito cooperativo in Toscana sono nei territori delle aree interne e montane però se non c'è una revisione a livello europeo di alcuni parametri che vengono applicati in modo molto rigido chiaramente questi istituti che per loro vocazione sono a maggior contatto con il territorio rischiano di essere penalizzati e di dover essere costretti a una contrazione degli sportelli in virtù del rispetto di alcuni parametri. Quindi la richiesta della Commissione alla fine di queste audizioni è duplice da una parte sostenere esperienze come gli sportelli mobili che alcune banche stanno mettendo in atto per coprire il territorio regionale dall'altra la richiesta al Governo che in sede europea vengano introdotti criteri di proporzionalità perché non si può applicare al grande gruppo bancario gli stessi identici criteri di una banca di credito cooperativo e soprattutto non si può pensare che i costi dipendano solo e esclusivamente dagli sportelli. Abbiamo dato un voto diciamo favorevole però con alcune precisazioni la prima è che la Commissione stessa nel momento in cui Poste Italiane annunciava il piano polis con un investimento di 800 milioni in 5 anni proprio su tutti quei comuni che sono all'interno anche delle aree interne si parla di 7 mila comuni in Italia fa un appello sostanzialmente un po' incisivo ma che deve tener conto del fatto che il sistema bancario per radicarsi nelle aree interne deve necessariamente fare in modo che sia la politica probabilmente a riportare quelle condizioni necessarie al credito per attestarsi mentre Poste Italiane oggi probabilmente è l'interlocutore principale della maggior parte dei residenti persone che hanno un'età molto avanzata per quanto riguarda tutta la tipologia di servizi che questo piano polis sta annunciando Si parla di salario minimo garantito con la proposta di legge ed iniziativa consigliare prima firmataria Ilaria Bugetti del PD approvata a maggioranza dall'Aula in pratica la norma due soli articoli prevede che nel codice dei contratti pubblici siano inserite le esigenze sociali come si configurano? Una piccola grande novità uno dei temi più attuali e più sentiti è quello del salario minimo garantito e sebbene nella norma non ci sia scritto salario minimo garantito la sostanza, il cuore di questa norma di soli due articoli ma fondamentale si spinge oltre e va a dare delle linee guida alla giunta della regione toscana parlando di salario attuale e adeguatezza cosa vuol dire in sostanza? vuol dire spingersi un pochino oltre nel codice degli appalti pubblici quindi della regione toscana ma anche di tutti gli enti che afferiscono alla stessa regione toscana per esempio Estar e quindi anche un indirizzo per i comuni quindi tutti gli enti pubblici è quello di andare a valutare la parte sociale che le aziende devono presentare quando si presentano a fare gli appalti quindi spingendosi verso quel concetto di salario minimo garantito che vuole rispettare il valore sociale del lavoratore è un primo passo sappiamo che la competenza non è squisitamente regionale ma vuol andare oltre provare a aprire e a forzare un po' la mano per andare verso quel diritto che dobbiamo garantire che è appunto il salario minimo e il rispetto della parte sociale che è già prevista peraltro in norma Apprezzamento è stato espresso anche dai gruppi di opposizione Fratelli d'Italia, Lega, Movimento 5 Stelle che si sono però astenuti per alcuni dubbi sull'applicabilità della norma stessa Incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio dopo le decisioni assunte dal governo si parla di super bonus 110% anche in consiglio regionale dibattito alimentato da due emozioni discusse e approvate a maggioranza dall'aula la prima è quella presentata dal consigliere del PD Francesco Cazzetti che chiede alla Giunta di attivarsi con il governo e in conferenza Stato-Regioni Chiediamo alla Giunta di interloquire con il governo sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti e poi si discuta nella conferenza Stato-Regioni o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle regioni o degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre regioni e da altri enti locali e che il provvedimento del governo con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti perché si parla molto di autonomia ma questo provvedimento invece ha bloccato ha zerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti e questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale e c'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione La seconda è quella presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato di fronte anche alle incertezze del futuro è stato un modo per sbloccare l'economia i vantaggi e i numeri, lo dicono chiaramente, ci sono stati quindi noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle al governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate ma anche di prevedere come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato quindi dell'edilizia di permettere alle imprese, alle piccole imprese, ai condomini, alle famiglie di non far parte di questo provvedimento quando le loro dichiarazioni di redditi non hanno la capienza necessaria in sede di voto il consigliere d'Italia Viva Maurizio Sguanci ha annunciato la sua astensione Alessandro Capecchi dai banchi dei Fratelli d'Italia difende invece le scelte del governo che dice ha dovuto sanare un provvedimento ormai fuori controllo si continua a far finta di non capire che l'operazione del super bonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni come era stato nelle settimane scorse paventato perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici inoltre il governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali il primo togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il governo ha tolto l'altro con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità nell'immediato l'ha dovuto fare questo governo ma già il governo Draghi e anche lo stesso governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato attraverso40 tarività penale